ciao ragazzi io sono barbara e io sono lara e oggi andiamo ad aprire il super pasqualone delle glimis e qui sotto abbiamo tutte le nostre glimis che stanno aspettando non vedono l'ora di aprire il pasqualone c'è un'intrusa tu che ci fai lì volevo aprire no non sei una glimis quindi se non sei una glimis perché dovresti aprire l'uovo perché sono una che ti prego va bene dai ti metto un angolino e guardi insieme a noi le sorprese sì dai ok allora ragazzi per favore spostatevi tutte quante e andiamo a vedere la scatola e poi andiamo a vedere anche che cosa c'è dentro bene diamo una sbirciata da sopra e qui si vede eccolo qui il pasqualone e guardate un po si vede anche che abbiamo trovato una glim house con una carina è bellissima ci mancava ok vediamo fuori tutto quanto eccoci qua adesso andiamo ad aprire l'uovo e qui ci sta la targhetta hanno messo la fascetta da elettricista come sigillo di garanzia e c'era anche un sigillo sopra la scatola allora io userò questa che è una è come quella con cui con cui mi taglio le unghie ok prima fascetta eliminata seconda fascetta sapete che questo è il primo uovo di plastica che ha avuto che riceve l'ara nella sua vita sì perché non ha mai avuto allora come si apriva ok ce l'ho fatta bisognava ruotarlo leggermente si scatta nel frattempo vi faccio vedere qui guardate una cosa in anteprima quello che sta facendo l'ara nel frattempo sia visto che l'uovo non è di cioccolata lei sta mangiando altra cioccolata così mentre noi facciamo il video andiamo andiamo a vedere andiamo andiamo mappa quanta mamma mia quante cose no allora questa ci manca ci manca che bello allora un game acquarius con questa bellissima che carina viola allora questa qui è una quindi ecco perché non entrava quindi ecco perché non entrava io pensavo che si trovasse o invece tutte e due le batterie quello che speravo che vi dicevo dalla scatola mamma mia una scatola da quattro poi ti calmi allora sta tirando fuori cose velocissimamente allora dai vita al tuo super pasqualone quindi questo dovrebbe essere la luce vediamo un po' ecco che ci sono ecco qui è una lampada pusha quindi questa qui tu in pratica schiacci e si dovrebbe illuminare la puoi sia mettere dentro il pasqualone per illuminarlo oppure questa qui vedi ha questo adesivino si può anche attaccare che ne so vicino al letto dentro gli armadi in posti bui in modo che uno schiaccia e l'accende carino e poi abbiamo trovato un immancabile chipis il chipis è amico dell'altro chipis che abbiamo trovato nel calzettone di la befana delle lol te lo ricordi sì me lo ricordo ecco adesso hai anche questo ti piace grazie allora questa cosa non è a tema glimis mentre tutto il resto sì c'è ancora c'è anche un bigliettino delle duracell allora oh un buono sconto quindi c'è anche un buono sconto che scade a giugno quindi ci sono un bel po di mesi per comprarle per comprare delle batterie buono ok bella cosa e quindi c'è anche un buono sconto sulle batterie allora andiamo ad aprirci queste cose qui quindi fondamentalmente quello che trovate all'interno sono i due set allora e il chip allora andiamo ad aprirle sì dai e poi glimiamole certo andiamo ad aprire ecco la nostra casina ma si si illumina perché dentro c'è qualcuno allora infatti quella che abbiamo trovato dentro è lei cioè belenia che noi chiameremo penso belen con la casetta a rosellina e fate uscire ma certo aspetta aspetta un attimo allora qui c'è la finestrina vedete ecco la vediamo da qui e si illumina perché appunto dentro la casetta c'è un po di buio e mi fate uscire sì si può anche portare via con questa stellina che si può sganciare staccare e rimontare la re molto contenta perché è la sua prima glim house questa dietro a insieme a quella dell'acquare ecco perché si lagna che vuole uscire perché c'è la c'è la porta c'è questo cartoncino che vi fa da porta del della casetta e ha due sfondi uno del negozio da fuori e uno del negozio da dentro grazie l'ara ti ha liberato ed eccola qui la nostra belenia è carinissima c'ha la treccina sulla fronte e appunto come tutte le glimis se le spensa sì se le metti la manina la tieni al buio lei si illumina potrebbe interagire con un'altra rainbow abbiamo altre rainbow qui sì queste due ma l'ara ci ha giocato talmente tante che le ha un pochino scaricate quindi adesso gli andremo a cambiare le batterie anche a loro e che non sono le dure ecco vedete è un pochino fiuchina è un po piano poca poca che ti è successo cara ea mi sono stancata perfetto andiamo a vedere l'altro set ed ecco qui abbiamo scartato questa è la nostra nerea guardate quanto carina è una delle più carine secondo me proprio bella 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 e è tutta glitterosina che cos'è che animale è secondo te sì un polipetto mi sa che vedo vedo più vedo più di una gambetta polivo è un polipetto allora andiamo a mettere l'acqua questo è il suo acquarietto e abbiamo due sfondi uno con la altra alga lasciamo questo che è più bello sì e andiamo a mettere l'acqua adesso facciamo un disastro vediamo un po wow aspettacene ancora un po ok e ora andiamo ad accendere vado a glimare vado glim o glim o glim o già si accende ora un po che bella ora come diventa l'acqua tutta luminosa vuoi fare un bagnetto anche tu sì eccole ora adesso dai aspetta che lei si svuota vai oh eccola qui la nostra altra glim glimis acquaria che si chiama abby questa era abby vero mi sa di sì sì abby comunque questa è uscita veramente veramente tanto tanto bellina e tanto tanto luminosa bello il verde che fa un effetto bellissimo chi arriva ecco ecco che ne arriva un'altra questa è marine vai marine pure tu wow acqua blu allora noi avevamo un altro acquarietto e quindi possiamo finalmente fare una cosa che volevo fare da tanto tempo li possiamo concatenare ecco qui questo è il nostro acquarietto che avevamo già li possiamo unire adesso se faccio adesso farò uscire tutta l'acqua siamo pronti lascio così comunque si possono concatenare tra loro e mettere tutti quanti in fila per o per giocare o per riporre le bamboline bene lara che cosa ci rimane da fare la luce allora abbiamo messo le batterie che erano in dotazione ne sono entrate tre una c'è avanzata e adesso andiamo a mettere questa lucina dentro l'uovo la mettete dentro chiudete ed eccolo qua ed eccolo qua carina come cosa aspetta che ve lo faccio vedere da lontano io lo immagino tipo di un giardino d'estate che bello ti piace sì allora una cosa sta glimando proprio come me esatto questo è proprio in effetti questo con la luce delle glimis è proprio quello più glimmoso diciamo perché appunto allora si può mettere questa torcetta questa lucina anche in un altro punto dell'uovo quindi se uno vuole c'era questo velcrino questa cosina che vi ho fatto vedere prima che non è un adesivo e basta è un velcro quindi vedete fatto così lo strappettino quindi voi attaccate un pezzo alla lucetta un pezzo dove volete voi potete staccarla e attaccarla quante volte volete quindi volendo potete attaccarla al fondo dell'uovo e poi girarlo insomma creare un punto luce dove volete voi oppure potete mettere visto che l'uovo abbastanza grande ingombrante potete metterlo che ne so vicino al lettino vicino al vostro armadio così magari potrebbe essere una lucina della notte che voi fate così fate così e vi fa compagnia o vi accompagna per alzarvi dal letto bene adesso che abbiamo scarrato tutto andiamo a vedere il lato economico quindi il pasqualone costa tra i 36 39 euro vediamo se quello che c'è dentro equivale al prezzo ebbene sì perché le casette e la glim house e l'acquarietto costano in media 15 euro l'uno quindi già sono 30 euro il chipis costa di listino intorno ai 6 euro ci sono in più le batterie e questi sono comunque sono della duracell meno di 3 euro non costano c'è la lampada e c'è anche da non riesco a dimenticare c'è il buono sconto da 2 euro e 50 quindi devo dire che quello che abbiamo trovato è soddisfa ampiamente quello che è il costo di questa di questo gioco ovviamente il chipis non fa parte della linea delle glimis però già due casette sono una bella sorpresa la lampada pure non è a tema glimis ma va benissimo perché comunque sia molto carina e soprattutto si può usare sia con l'uovo e sia attaccandola al comodino a letto qualcosa bene noi adesso vi salutiamo ma vi lasciamo con un po di letterine alla fine di questo video quindi continuate a vedere perché ci sono le letterine che ci mandate sempre amira ci manda questa letterina col disegno con un sacco di disegnini regalini un sasso decorato una sirenetta grazie bellissima la tua letterina è meravigliosa grazie tante vista guarda che bella la rollina che ha disegnato per noi e bellolina è molto contenta del tuo disegno e lara è felicissima dello squiscino che le hai mandato grazie ciao grazie e marta che ha un canale youtube che si chiama marta surprise ci ha mandato questa bella letterina uno slime fatto da lei bellissimo e uno squiscettino per l'olina grazie e guardate che carina chiara questa bambina mi ha fermato fuori la scuola di lara e mi ha dato questa letterina bellissima con un temperino bellissimo per lara che le è piaciuto tantissimo e un sacco di disegnini compreso miau ciao grazie chiara l'olina bombon e alice salutano a miranda che ci ha mandato uno slime guardate che carino ci ha fatto anche lo smile un bellissimo foglio con i nostri nomi glitterati dice che si guarda i nostri video la sera nel letto mentre si coccola i suoi gatti e allora salutaci i tuoi gattini ciao grazie ciao carlotta i due disegni sono meravigliosi disegni veramente bene carlotta ha otto anni ci ha fatto un sacco di sorpresine ci ha mandato un washi tape e tanti pacchettini per le nostre lol ne ha anche tante e chiede un video in cui faremo vedere tutta la collezione sì abbiamo già fatto un video per lo speciale dei 60.000 con la prima serie faremo per i 70.000 la seconda e per gli 80.000 la serie dei confetti pop quindi li stiamo dividendo ma li faremo tutti quanti e qui guarda lice che fa la pipì con la subligazione mondiale globale totale della grattugia grazie carlotta ciao ma che bello questo se lo vede fashion mettilo via lolina perché se lo vede fashion ve lo prende sicuro e ringraziamo Sara che a 7 anni ci ha fatto Rapunzel ha fatto un pop up meraviglioso con me e Lara e ci ha fatto casetta lol con Lillina che precipita ciao grazie e un sacco di altri regalini ciao 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 lolina sì lo sai che veronica che ci ha mandato questa bella letterina piena di stampe di uno squishy fatto a mano ha un sacco di lol e la prima lol che ha trovato sai qual è stata quale tu veramente sì la sua prima è stata Lillina ciao grazie ciao alice guarda cecilia ha fatto delle u con le pisla che belle e poi ha fatto anche dei regalini per Lillina sempre fatti con le pisla questo mi sa che è un telefono oh ci faccio gli ordini e poi è una miraculous ladybug pop up e questa bellissima letterina grazie questa Alessandra che ci ha mandato una allora dei disegni per delle Lill i disegni per le lol e la busta che ha fatto lei guardate quanto è bella con me con lei Lara io vi amo e bellissima lolina ti piace? sì tantissimo lo sai che lei ha super BB glitter wow è una delle più belle ciao oh guarda un hula hop Alice non è un hula hop ah no che cos'è è un bracciale per Lara questa è una tua convinzione Alice guarda che veramente veramente ce lo manda Anna di nove anni e ha mandato anche questo bellissimo bracciale per me guarda questo qui no questa qui è una poltrona per le loline sei sicura lolina sì sì grazie Anna Lara guarda Giada che ci ha mandato nel sacchettino di raso adesso apriamo tutto eh aspetta che non vorrei romperle guarda quante cose in questa lesserina sono tantissime che bene sì ora apriamo tutto ma guarda che meraviglia allora ci ha fatto un libro delle favole con la copertina rigida sapete che si chiama brossura i libri che hanno la copertina rigida si dice che si chiamano brossurati quindi ci ha fatto un libro brossurato con la storia di Alice con quella di Rapunzel lol bellissimo e quando ci ha scritto la letterina mi sa che non avevamo ancora fatto il video perché ha detto che vorrebbe tanto vedere Alice nel paese delle meraviglie lol e l'abbiamo fatto e ci ha fatto tantissimi regalini ha detto che lei ha delle confetti pop a Snuggle Babe che ha scritto che ha pure lilla sì è vero l'abbiamo noi e ce l'ha pure lilla e penso che Snuggle Babe sia una delle più belle della serie confetti pop e ci ha fatto la grattugia e una marea di regalini delle una bustina di regalini per noi e una bustina di regalini per le lol ma guarda quanti questo è per me questo è per Lara pure questo è per me e questi sono per voi oh che bello grazie fantastico fantastico ci ha fatto veramente un sacco di cose meravigliose ciao Noemi sono sono Roger e ti saluto io visto che hai chiesto il mio saluto ci hai mandato un sacco un sacco un sacco di regalini bellissimi e un sacco di disegni belli lo shiba e tante altre belle cose grazie grazie mille ciao ciao Martina il tuo disegno è bellissimo sì ti salutiamo anche noi Martina ci ha fatto questo bel disegno e dice che le piace tanto master lol ciao e questa letterina bellissima ce la scrive Ilaria o anche se scrive la sua mamma perché lei ha solo cinque anni che fa danza le piacciono tanto i nostri video e ha una lol ciao io saluto ambra sì salutiamo ambra che ci ha fatto questo bellissimo disegno e ci ha detto che anche anche alcune lol tra cui ha the queen neon qt posh il tuo disegno è bellissimo ciao Angela che ha 9 anni ci chiede i saluti di alice e di lollina e ci chiede se faremo un raduno a milano spero di sì noi siamo già venuti a milano lo scorso novembre magari torneremo non lo so se per la fiera o qualcos'altro però mi piacerebbe molto lei dice che sarebbe molto emozionata anche noi saremo mi ci piacerebbe conoscervi tutte quante grazie un bacio a tutti quanti e rimanete con noi perché ci sono altri video di pasqua e poi storie tutte le nostre novità ciao ciao un bacio a tutti quanti un bacio a tutte le glimis